È stata una bella partita dura, tosta, però le guardate che abbiamo noi non c'erano altre squadre e quindi oggi grazie a Andrea abbiamo fatto un corso di punizione e mi è portato a casa. Secondo me è inciso un po' il campo pure, la palla rimbalzava male, come noi anche per loro, però forse loro erano più abituati, però dopo il secondo tempo è andato un po' meglio, mi è portato a casa. Il Miss ha fatto dei cambi, come hai detto tu, però non è cambiato niente e noi continueremo su questa strada e speriamo di vincere tutti. Sì, sì, il Ciccio lo sappiamo tutte le qualità che ha Ciccio, il Miss Forte l'ha fatto riposare, abbiamo fatto altre cose, altri movimenti, però come hai detto è andata bene e portiamo a casa questa vittoria.